Sono stati rinvenuti e quindi sottoposti a sequestro tre cellulari, uno anche questa mattina dall'inizio della settimana, il rinvenimento durante alcune perquisizioni delle celle. Purtroppo due agenti sono rimasti feriti nel corso di una lite tra detenuti. La denuncia è del SAP, Sindacato Polizia Penitenziaria. Da quanto è stato rivendicato al sindacato, sembra che due gruppi di africani hanno dato vita a dei tafferugli. Due polizotti hanno riportato lesioni e sono stati poi ricoverati con il 118 all'ospedale. Uno ha una gamba rotta ed è stato ingessato con 25 giorni di prognosi, l'altro se l'è cavata con 3 giorni di prognosi. Proseguono le indagini del caso.